Allora, sì, EFT, come dicevi tu, cara Bobenica, è un acronimo che sta per Emotional Freedom Techniques, tradotto sarebbe tecniche di liberazione emozionale. È una tecnica di autoaiuto, questa è sicuramente la caratteristica più importante di EFT, è diciamo la caratteristica per cui è nato EFT, quindi questa è proprio una tecnica che nasce con l'intento di dare uno strumento pratico, estremamente efficace, vedremo, poi ne parleremo un po' meglio, in qualunque ambito rispetto alla persona, quindi a problemi che possono essere di natura fisiologica, fisica, da la A alla Z, qualunque tipo di problema fisico, ma anche e soprattutto, non di meno, per tutto quello che riguarda altri aspetti che possono coinvolgere il benessere e la salute delle persone, Mi riferisco al loro stato psicologico, emozionale, quindi EFT viene applicato in tutti gli ambiti, anche, oltre a tutti quelli fisici, che riguardano la sfera emotiva, emozionale, psicologica, quindi gli stati, per esempio, per fare un esempio pratico, gli stati di ansia, gli stati di stress, le fobie, gli stress post-traumatici, i traumi anche, a cui le persone possono, come dire, con cui le persone possono trovarsi ad avere a che fare nella loro vita, traumi anche difficili da superare, Quindi tutto quello che riguarda anche l'aspetto psico-emotivo, quindi è una tecnica che possiamo subito dire agisce su qualunque, e lo ripeto, poi lo vedremo meglio, su qualunque aspetto che riguardi la persona, sia di natura fisica che di natura psico-emotiva, ok? Già questo, di per sé, se riflettiamo un attimo, è qualche cosa di, direi, eccezionale, perché con un'unica tecnica, ecco, che tra l'altro, vedremo, è semplicissima da applicare, perché chiede mediamente, per ogni applicazione, un minuto, un minuto e mezzo, Beh, ok? Ecco, con una tecnica, dicevo, semplicissima da applicare e unica, si può lavorare su qualunque cosa. Quindi questa è la premessa di EFT, ma torno a dire, perché questo poi, fatta questa premessa, è il punto nodale della questione, è nata, è stata studiata questa tecnica, con l'intento di fare in modo che le persone la possano usare in completa e totale autonomia. Quindi, lo ripeto, è nata come tecnica di autoaiuto, d'accordo? Poi, EFT lo si può anche applicare, nel senso che, per esempio, io nella mia pratica, diciamo, professionale, alle volte, in studio, in terapia, mi capita di, in alcuni casi, di applicare EFT. Quindi lo faccio io, no? Alle persone, e nell'occasione, oltre ad ottenere, come dire, l'effetto benefico che EFT produce in quel momento, la insegno contemporaneamente, perché poi, una volta applicata, una volta fatta, la si impara. Quindi, da quel momento in poi, la persona la usa in modo autonomo. Quindi io ci tengo a rimarcare in questo aspetto, perché, per quanto mi riguarda, è stato quello che più mi ha colpito sin dall'inizio di EFT. Quindi, proprio questa sua caratteristica di essere una tecnica semplice, lo ripeto, semplicissima, che si applica sempre nello stesso modo, a prescindere dal problema. Anche questo è un altro grandissimo vantaggio. Quindi non ci sono dei protocolli specifici per ogni tipo di problema. Ma bensì qualunque tipo di problema, e lo ripeto, che sia di natura fisica, organica, piuttosto che psicologica, emozionale o conflittuale, vengono trattati sempre con uno stesso tipo di, diciamo, approccio, protocollo. Ok? Questa è un'altra caratteristica importantissima. Quindi queste tre cose, la sua semplicità, la sua praticità, la velocità di esecuzione, il campo di applicazione anche che ha, lo ripeto, su qualunque tipo di problema, e il fatto che sia una tecnica di autoaiuto, sono state, ripeto, le cose che più mi hanno colpito sin dall'inizio di EFT. Io ho conosciuto questa tecnica, adesso sinceramente faccio fatica anche a ricordare, perché è passato tanto, tanto tempo, però, diciamo, circa nel 2000. Quindi, sì, più o meno. Quindi sono passati quasi 23 anni, da quando l'ho conosciuta, e la pratico regolarmente, ecco. EFT fa parte di un ambito dello studio della psicologia clinica, che in Italia non è molto conosciuto, quasi per niente, ma che negli Stati Uniti, invece, è molto conosciuto, questo ramo, diciamo, della psicologia clinica, e anche studiato nelle università di psicologia. e si chiama psicologia energetica. È una branca, appunto, un ramo della psicologia clinica, che si occupa di unire quelli che sono le competenze della psicologia clinica, appunto, agli aspetti della gestione dei processi energetici interni al sistema biologico, quindi al nostro corpo. A riguardo, è importante, quindi, ricordare, appunto, che il nostro sistema biologico, la nostra struttura organica, è composta da vari aspetti, che alcuni possono essere molto conosciuti, come la fisiologia, la biochimica, che poi è fatta di biochimica, di metabolismo, no? Quindi, tutto quello che riguarda la parte organica, ma anche di processi energetici. I processi energetici macroscopici sono quelli, per esempio, che permettono alla cellula di respirare. La respirazione cellulare, prodotta dai mitocondri all'interno del sistema cellulare, è un processo energetico. È il processo che permette, ripeto, alla cellula di ottenere l'energia necessaria per le sue funzioni. Quindi, quando parliamo di processi energetici, ci riferiamo sia a questi aspetti più sottili, interni alla fisiologia e alla biochimica della nostra struttura organica, ma anche a tutti quei processi di interscambio di energie che potremmo definire sottili. Questo è un aspetto che potrebbe sembrare, come dire, sfuggevole, perché noi siamo abituati, per la nostra cultura, soprattutto occidentale, a considerare aspetti, come dire, biochimici, come quelli, o neuroelettrici, come quelli degni di considerazione, però in realtà, di fatto, anche, per esempio, la psico-neuro-endocrino-immunologia, oggi parla di questi processi energetici sottili che riguardano quell'interscambio che avviene a livello anche cellulare di energia sottile. È quella energia che nella medicina antica cinese veniva chiamata Qi, cioè Qi, l'energia vitale, di cui si nutrono tutte le strutture organiche. Quindi le nostre cellule vivono di processi biochimici, neuroelettrici, ma anche energetici sottili. Io, su questo argomento, parlando di energia, dovrei aprire una parentesi che non apro. Ne abbiamo parlato nell'altro webinar sulla chinesiologia dell'inconscio, quindi abbiamo parlato più approfonditamente del concetto di energia. Io questa sera non ci entro perché se no non ci basta il tempo, però molto sinteticamente quando parliamo di energia ci riferiamo a un processo che riguarda la fisica, quindi che riguarda la struttura fisica intima della materia a livello subatomico. Quindi ci riferiamo a un fatto estremamente concreto e fisico, non a un concetto astratto, idealistico o poetico. Quando noi usiamo questo termine, energia, appunto, ci riferiamo alla costituente essenziale della struttura subatomica della materia, che è appunto energia. Brevemente, due parole, nella struttura della materia troviamo tutta una serie di sottostrutture particellari che vanno dal macroscopico al microscopico partendo dalle molecole, gli atomi, i protoni, i neutroni, i elettroni, e poi via via tutta una serie di altre particelle subatomiche alla fine delle quali, però, ecco, questo è il punto, quando, come dire, arriviamo ad un certo punto all'interno di tutte queste strutture, succede un fatto che è proprio questo, si trova l'energia, ok, che viene chiamata oggi energia oscura. Quindi anche in EFT, quando noi parliamo di energia, ci riferiamo sempre a questo stesso concetto che riguarda, in ultima analisi, la struttura fisica subatomica della materia. Per cui parlare di energia in generale, ma nello specifico nell'ambito di EFT, significa ancora una volta, ripeto, fare riferimento a questo tipo di realtà. In sintesi, il nostro corpo, la nostra struttura biologica, come dicevo, viene gestita e attraversata anche da processi di tipo sottile che vengono chiamati energetici, ok? Da qui, forse risulta un po' più chiaro di che cosa si occupa, da questa premessa, risulta un po' più chiaro di che cosa si occupa la psicologia energetica. Psicologia energetica si occupa dell'interazione tra questi processi energetici e poi gli effetti che questi processi possono avere sull'assetto psicologico, emozionale, conflittuale di una persona. Faccio un esempio pratico. Se una persona vive un conflitto, uno stress improvviso, per esempio uno spavento, una situazione angosciante, noi sappiamo che tutta la fisiologia improvvisamente assume una conformazione specifica per cui ci sono scariche di adrenalina, la respirazione aumenta, il cuore inizia a battere più forte, la pressione sale, eccetera. Quindi tutta la fisiologia cambia in rapporto a quella emozione che la persona sta vivendo in quel momento, nel caso del nostro esempio una goscia, una paura improvvisa. Ecco, quindi noi sappiamo che c'è una relazione diretta tra uno stato d'animo, in questo caso, un esempio molto semplice, e una reazione biologica, fisiologica, biochimica all'interno del corpo. Questa è una relazione che tutti possono sperimentare e che tutti hanno sperimentato, quindi perfettamente riconoscibile. Bene, c'è un altro aspetto da aggiungere oltre a questo, ossia che quello di cui ho appena parlato non è l'unico cambiamento che avviene nel momento in cui una persona vive uno certo stato emotivo. Ci sono anche dei cambiamenti più sottili che riguardano altri tipi di strutture le quali sono deputate al trasporto della energia vitale all'interno della struttura organica. Queste strutture sono i meridiani. i meridiani sono quei famosi canali di cui tanto parla la medicina cinese di trasporto che servono a trasportare l'energia vitale all'interno della struttura biologica e a distribuirla in tutta la nostra struttura organica. Questi sono canali che si riteneva fossero virtuali fino agli anni sessanta per cui ad esempio noi sappiamo che se stimoliamo un determinato meridiano detto anche punto riflesso otteniamo un effetto fisiologico. Per esempio se io stimolo un certo punto che è in questa parte della mano che si chiama che è un meridiano specifico che si chiama intestino crasso IC4 in questo caso punto 4 se lo stimola anche con questa penna con il fondo di questa penna massaggiandolo in un certo modo ottengo un effetto sulla fisiologia specifica dell'intestino crasso questo di fatti è il meridiano dell'intestino crasso noi sappiamo che se stimoliamo questo specifico meridiano otteniamo un effetto sulla fisiologia ora esistono molti meridiani nella nostra struttura organica questo è uno solo intestino crasso ma in realtà abbiamo dei canali meridiani per tutte le principali strutture organiche quindi avremo il meridiano del cuore il meridiano del polmone il meridiano del rene il meridiano del fegato della lo so il meridiano della vescica urinaria quindi ogni struttura primaria nella nostra fisiologia è attraversata e nutrita da uno di questi canali specifici per ognuno di loro sono in tutto 14 questi principali meridiani su ognuno di essi se noi operiamo una stimolazione di tipo meccanico otteniamo un effetto specifico sull'organo a cui quel meridiano va a fare riferimento d'accordo poi queste strutture sono molto articolate perché ognuno di questi 14 principali si divide in varie sottostazioni per cui vengono fuori tutti quei punti che possiamo vedere se osserviamo una mappa dei meridiani tipica del lago puntura che tutti avranno visto quindi quello vino quella rappresentazione dell'uomo con tutti i punti che sono i punti dell'ago puntura quelle sono le sottostazioni i sottopunti dei 14 principali meridiani in tutto sono più di 300 tutto questo discorso preliminare sulla spiegazione dei meridiani era per poter arrivare a dire appunto che in questi canali che producono un effetto sulla fisiologia scorre quella che noi chiamiamo appunto energia vitale o chi d'accordo questa energia dicevamo è un fatto fisico quindi è una una come dire una manifestazione manifestazione di quella stessa energia che poi compone tutta la struttura della materia organica di cui siamo composti a livello subatomico la quale però scorre elettivamente in questi canali e serve a mantenere come dire il programma di funzionamento biologico di tutto il sistema dicevo che si riteneva che questi canali fossero virtuali per esempio se io tornando all'esempio che facevo prima dove c'è questo punto che è solo un esempio uno dei tantissimi punti meridiani intestino crasso 4 vado ad aprire tagliando ok con un bisturi e vado a cercare il meridiano intestino crasso non lo trovo no quindi troverò dei tendini troverò dei legamenti dei muscoli delle guaine troverò magari anche parte dell'osso ma quindi tutte strutture anatomiche ma non trovo il meridiano come struttura anatomica quindi si riteneva che si riteneva perché poi non è così adesso lo vedremo ma fino agli anni 60 si riteneva che questi canali fossero dei canali virtuali ok non anatomici di fatto poi negli anni 60 la ricerca del medico coreano Bong yang fatta con microscopio elettronico ha dimostrato che i meridiani esistono come strutture anatomiche il problema è che sono talmente piccoli ok proprio perché non si possono rivelare se non con una osservazione al microscopio elettronico che non risultano visivamente quindi sfuggono alla classificazione anatomica ma lo ripeto questa ricerca che è stata fatta negli anni 60 da boi yang che poi è stata come dire fra virgolette fatta scomparire fino agli anni 2000 negli anni 2000 è stata ritirata fuori da un gruppo di medici un gruppo internazionale di studiosi della medicina cinese è stata ritirata fuori questa questa ricerca con sono state fatte le pubblicazioni tutta la documentazione al microscopio elettronico di boi yang che ha definito questa rete di vasi che sono in pratica delle strutture di connettivo microtubulare dei piccolissimi diciamo così tubicini di connettivo dentro i quali scorre proprio la cosiddetta energia vitale il ki ecco e che è stata definita da boi yang come come primary vascular system ecco quindi chiunque voglia andare a vedere poi e approfondire la questione su internet basta che digiti primary vascular system e troverà tutta la ricerca sui meridiani ecco emerge da questa ricerca che in realtà sono dei canali anatomici sono dei microtubuli di connettivo dentro i quali scorre elettivamente l'energia che determina la stessa struttura biologica sul piano subatomico questa energia apro e chiudo parentesi ricordiamo che si muove in queste strutture sotto forma di onde luminose che vengono chiamati biofotoni misurabili oggi noi possiamo misurare la la presenza di biofotoni ok anche in questo caso per chi volesse approfondire c'è la ricerca di fritz pop sulla sui biofotoni eh sulla struttura dei biofotoni va bene scusate perché ho un banner eccolo qui tutto questo discorso preliminare e perdonate ma abbastanza sintetico perché altrimenti diventerebbe complicato dedicarvi più tempo serve a ritornare al punto EFT si occupa della gestione e dell'interscambio di questi processi energetici lavorando sul piano fisico meccanico proprio sui 14 principali meridiani che sono in fondo quelle che potremmo definire le autostrade su cui scorre questa energia perché è così importante però questo questa questa energia vitale che scorre attraverso questi 14 principali meridiani beh prima di tutto è importante perché questo questo flusso energetico va a nutrire letteralmente proprio sul piano della fisiologia delle strutture di vitale importanza dicevamo che sono 14 questi principali meridiani e ce n'è uno per ogni organo principale per ogni struttura biologica principale quindi dicevamo il meridiano del cuore dei polmoni dei reni eccetera quindi già questo ci fa capire quanto siano importanti e quanto in realtà tutta la struttura biologica parliamo di questi organi per fare il nostro esempio venga nutrita non solo da un sistema vascolare formato da vasi e arterie quindi un sistema vascolare che ha il compito di portare il sangue a questi organi ma anche da una rete poi di vascolare diciamo così circolatoria attraverso cui passa la linfa quindi abbiamo già due strutture di circolazione che vanno a nutrire a regolare la funzione di questi organi principali vascolare venosa sangue linfatica quindi tutto il sistema linfatico la linfa serve a come dire gestire l'espulsione di tutti i cataboliti da parte di questi principali organi i cataboliti sono le sostanze di scarto quindi la linfa ha la funzione di drenare fondamentalmente le tossine e aiutare l'ossigenazione insieme al sangue ma poi c'è anche ecco veniamo al punto un sistema circolatorio che è determinato da questi 14 meridiani attraverso cui questi principali organi vengono nutriti anche di interscambio energetico di energia di biofotoni fondamentalmente quindi capite bene che non hanno un'importanza secondaria lo dico in un altro modo se se io ostacolo la circolazione per esempio della vena porta del fegato dove c'è il più grosso interscambio di sangue a livello epatico il fegato va in crisi ha dei grossi problemi bene ma anche però lo stesso accade se io blocco la circolazione del meridiano del fegato dove non scorre sangue in questo caso nel meridiano ma bensì informazione trasportata dall'energia biofotonica fondamentalmente ok quindi non hanno un'importanza minore in questi meridiani come sistema circolatorio rispetto al sistema circolatorio vascolare hanno la stessa identica importanza EFT si occupa nel caso in cui ci fosse uno squilibrio in questo tipo di circolazione di riportare immediatamente l'equip quindi di ripristinare un corretto funzionamento del meridiano di un determinato organo di uno o più organi in modo che la circolazione energetica biofotonica che scorre attraverso questo meridiano riprenda regolarmente e l'organo non vada in sofferenza ok questo 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 meccanismo è sempre in modo estremamente sintetico il principio sul quale si basa l'effetto fisiologico di EFT perché questi meridiani possono avere degli squilibri ecco questo per noi è interessante questi meridiani possono interrompere la loro circolazione quindi possono per così dire intasarsi da un lato e quindi qui c'è un difetto di circolazione energetica all'interno del meridiano oppure possono dilatarsi eccessivamente quindi c'è un eccesso di circolazione in questo caso c'è un surplus di energia all'interno del meridiano per fondamentalmente per motivi che riguardano la sfera psicologica emozionale conflittuale cioè detto sinteticamente in altri termini questi meridiani possono incorrere in qualche problema di circolazione nel momento in cui la persona vive delle forti situazioni di stress di qualunque tipo uno stress per esempio se volete banale ma per capirci usuale può essere quello che una persona può provare quando si trova imbottigliata nel traffico e ha un'emergenza o deve correre deve arrivare magari presto in ufficio quindi è preso dalla fretta a tutti i pensieri della giornata che gli circolano in testa e in più si trova con il vecchietto col cappello davanti in macchina che va a 10 all'ora ecco e non riesce come dire a districarsi in una situazione del genere questa è una tipica situazione di stress molto comprensibile ma di queste situazioni in una giornata la persona ce ne sono decine e non sono le più gravi queste sono forme di stress diciamo purtroppo in certe situazioni abituali ma non sono poi gravissime le situazioni di stress quindi vanno da un livello 0 a un livello 100 e il livello 100 può essere non so la persona che si sente in pericolo di morte qualcuno che gli punta una pistola alla tempia per dire ecco sono tutte situazioni di stress noi ne viviamo a decine tutti i giorni per tutta una serie di ragioni che poi magari se andiamo bene a vedere non sono poi così importanti ma non entro nel merito noi diamo importanza a molte situazioni per le quali poi entriamo in una situazione di stress ecco queste situazioni di stress di tensione di cortocircuito generano all'interno di queste strutture circolatorie che portano energia alle strutture organiche quindi ai meridiani degli intasamenti dei cortocircuiti che provocano a cascata poi perché c'è tutta una sequenza nella fisiologia della funzione dell'organo stesso provocano un cortocircuito che può tradursi anche in un danno anche in un danno grave ok quindi EFT lavora su questi aspetti dopo vedremo come intanto sto facendo ancora la premessa per spiegare meglio questo concetto immaginiamo il meridiano come un'autostrada questo è l'esempio tipico che fa sempre anche Andrea Fredi che è colui che ha portato in Italia EFT dagli Stati Uniti se noi pensiamo al meridiano come a un'autostrada per esempio che ne so l'autostrada Venezia-Milano sappiamo che l'autostrada in questo caso ha un punto di entrata e un punto di uscita d'accordo quindi Venezia se partiamo da Venezia come entrata Milano se arriviamo a Milano come uscita o viceversa se partiamo da Milano avremo un'entrata a Milano e l'uscita a Venezia va bene però l'autostrada è quella lì è Venezia-Milano e poi ci sono lungo questa autostrada tutte le varie uscite quindi partendo da Venezia troveremo l'uscita di Padova di Vicenza di Verona eccetera fino ad arrivare a Milano quelle sottouscite quelle uscite diciamo nell'autostrada sono i punti dei meridiani le sottostazioni il meridiano principale è Venezia-Milano se per caso nell'autostrada Venezia-Milano si rovescia un camion ecco questo magari andando da Venezia-Milano appunto questo questo incidente provoca inevitabilmente un un intasamento del traffico per cui il traffico su quella sulla Venezia-Milano a causa di questo camion ribaltato si bloccherà ok poniamo che questo camion fa l'incidente all'altezza di Verona dell'uscita di Verona più o meno a quell'altezza lì ecco allora in un caso del genere se questa autostrada Venezia-Milano fosse in meridiano poniamo del fegato il fegato comincia ad andare in sofferenza perché non gli arriva più energia sufficiente ok non gli arriva più informazione che attraverso i biofotoni che serve a coordinare le sue funzioni biologiche ok e quindi va in una situazione di sofferenza EFT come agisce? Agisce in modo meccanico stimolando con un picchiettamento di questo tipo quindi con i polpastrelli il meridiano in questo caso del fegato d'accordo? Questa stimolazione entra nel punto primario di entrata del meridiano del fegato che ha tutte le varie sottostazioni anche lui come l'autostrada e nel momento in cui entra facendo l'esempio dell'autostrada da Venezia poniamo questo stimolo passa tutta l'autostrada arriva dove c'è il camion rovesciato e se lo porta via quindi EFT non agisce nel punto specifico dell'autostrada dove si è verificato l'incidente ma dà un impulso nel punto di entrata dell'autostrada quindi a Venezia il quale percorre tutta l'autostrada e passando nel suo percorso tutto ciò che trova di intraccio se lo porta via è un po' come l'idraulico liquido da questo punto di vista concettualmente non è che io l'idraulico liquido lo vado a mettere esattamente dentro alla tubazione dove c'è l'intasamento che si è formato no io dall'imboccatura del tubo lo verso lui va giù percorre tutto il tubo e dove trova l'intasamento se lo porta via EFT funziona nello stesso modo per questo è molto semplice per esempio non è necessario sapere dove si verifica il problema a livello del meridiano perché lo si stimola comunque e sempre nella sua parte iniziale e questa stimolazione lo percorre tutto e si arrangia fa da sola ok una volta sturato si come dire ripristina una corretta circolazione all'interno del meridiano ok e nel caso del nostro esempio il fegato ricomincia a funzionare correttamente questo è il principio di funzionamento diciamo biologico meccanico di EFT funziona sempre allo stesso modo perché la stimolazione viene fatta sempre allo stesso modo a prescindere dal tipo di problema d'accordo ritorno a 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 fra virgolette malattie d'accordo quindi la gastrite per fare un esempio ehm che ne so un blocco renale o un problema al cuore eccetera 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 hanno sempre un collegamento con una disfunzione nel funzionamento di approvvigionamento energetico di quella struttura da parte del meridiano e il meridiano ha sempre come causa di un suo disfunzionamento un aspetto di tipo psicologico o emozionale diciamo in modo molto generale una causa dovuta a una situazione di stress poco tanto forte fortissimo d'accordo sempre quindi c'è sempre questo circuito c'è sempre questa relazione e FT che cosa fa ripristina il corretto funzionamento del meridiano che si è fra virgolette intasato a causa di un cortocircuito di tipo psicologico ok quindi lo stress lo ripristina ripristina questo funzionamento ma contemporaneamente ecco questa è la cosa bella di FT non solo fa questo sul piano della fisiologia per cui ripristinando questa circolazione fa in modo che l'organo possa essere recuperato e il problema di salute in questo caso venga risolto ma agisce contemporaneamente anche a monte su tutti i processi che hanno generato lo stress in pratica induce rispetto allo stress iniziale di tipo psicologico che ha prodotto tutta questa cascata di eventi produce una situazione di riequilibrio quindi la persona in poche parole risolve anche a monte il conflitto che ha generato quel problema sul piano della fisiologia d'accordo quindi questo succede sempre questo succede ogni volta che si fa EFT EFT è stato e viene definito oggi anche come un piccolo un produttore di piccoli miracoli perché effettivamente la rapidità con cui EFT riesce ad agire su un problema fisico è sorprendente faccio un esempio un esempio comprensibile molto pratico una persona ha mal di testa poniamo i motivi del mal di testa possono essere centinaia sul piano della fisiologia può essere un mal di testa vasomotorio può essere un mal di testa dovuto alla disfunzione del fegato può essere un mal di testa dovuto a un problema cervicale quindi a una infiammazione del nervo spinale eccetera ci sono un'infinità di ragioni può essere un mal di testa di natura neurologica microcircolatoria cerebrale insomma ripeto un'infinità di motivi bene ognuno di questi motivi però ecco ha sempre sempre una concausa e un'origine iniziale con un conflitto sul piano emozionale sul piano psicologico sempre questo vale sempre per tutto quindi noi dobbiamo fare chiaramente questa premessa bene torno all'esempio una persona ha mal di testa un mal di testa molto forte per cui magari è abituata a assumere un antinfiammatorio un farmaco eccetera oppure a fare quello che fa di solito insomma per farselo passare ecco e invece applica EFT poi vi faccio vedere brevemente come si fa ma insomma adesso intanto lo dico fa questa questa manovra di EFT quindi applica quello che noi chiamiamo giro di EFT ok che dura mediamente ripeto meno di un minuto ecco e si ritrova alla fine di questa manovra che il mal di testa non c'è ecco scomparso quindi un mal di testa magari che impediva alla persona addirittura di tenere gli occhi aperti doveva stare a letto al buio come spesso succede con la nausea eccetera in poco più di un minuto scompare questo è un esempio pratico per definire per per spiegare che cosa si vuol dire quando si parla di piccoli miracoli ok in questo senso sono dei piccoli miracoli perché c'è un motivo questo sarà oggetto del corso poi la spiegazione tecnica per cui tutto ciò avviene ok perché c'è e la vedremo nel dettaglio ma però di fatto questo accade quando si applica EFT questo è un esempio che sto facendo è uno dei tanti ma serve a spiegare di che cosa stiamo parlando cioè della velocità con cui EFT agisce della semplicità con cui lo si può applicare e della soprattutto stabilità del risultato perché questo mal di testa che è passato poi è passato non è che dopo cinque minuti una persona si ritrova di nuovo ad averlo non c'è proprio più non c'è proprio più ok questo è un esempio semplice ma guardate bene che EFT agisce su situazioni anche molto più complesse e molto più gravi ok alle volte ecco alle volte anche con un solo giro di EFT d'accordo è chiaro che poi a seconda del problema si potrà agire con uno due tre giri di EFT ma ogni volta che lo si applica quindi a ogni chiamiamolo giro di EFT a ogni applicazione di EFT si nota un miglioramento della sintomatologia quindi non so poniamo che una persona ha un fortissimo dolore alla schiena ok poniamo si fa un giro di EFT il dolore magari in questo caso diversamente dall'esempio che ho fatto prima perché in questo modo cerco di spiegarvi anche altri aspetti magari non passa subito ma la persona sente che però è drasticamente diminuito c'è ancora ma è diminuito allora si fa un altro giro di EFT e alla fine di questo giro di EFT la persona sentirà che il mal di schiena è sceso ancora di più e così via scende sempre di più a ogni giro finché poi alla fine non c'è proprio più quindi EFT può funzionare in questi due modi o risolvere immediatamente il problema cosa che ripeto non è così rara che succeda con EFT ve lo assicuro questo lo so io che lo faccio ma lo sanno tutti coloro che lo applicano nel mondo EFT oppure l'altra l'altra possibilità è che ci metta leggermente più tempo per tutta una serie di ragioni tecniche che poi anche queste magari vedremo nel corso perché anche per questo c'è un motivo ok morale per farla molto breve il problema il problema in questo caso organico del anche come dire che sta provocando dolore alla persona in quel momento non c'è più cioè passa è come assumere come dire un potentissimo antidolorifico in questo caso nel nostro esempio che però non ha alcun effetto collaterale e agisce in profondità perché non solo ripristina il corretto funzionamento della fisiologia quindi impedisce che ci sia una situazione di scompenso che provoca il dolore ma anche recupera la causa profonda che lo ha generato e questa è la cosa ancora più importante altrimenti altrimenti non sarebbe poi tutto questo granché d'accordo cosa voglio dire voglio dire che se c'è un conflitto e c'è sempre alla base di quel problema sulla quale la persona ha lavorato con l'EFT quel conflitto viene risolto cioè viene sciolto questa per me è la cosa più potente di EFT ancora più potente perché in questo caso siamo andati addirittura a monte del problema risolvendo nell'origine sul piano conflittuale profondo ok non sempre la persona si rende conto di questo riesce a capire qual è questo conflitto a monte ma questo non è un problema nel senso che è relativamente importante perché all'interno di questo sistema integrato su cui agisce EFT questo accade comunque se poi come dire questa struttura che è intelligente perché la biologia ha un'intelligenza biologica riterrà che la persona debba come dire comprendere sul piano razionale qual è stato il problema che si è andati a gestire e risolvere a monte con EFT lo capirà come il tempo quindi ma questo dipende dalla intelligenza biologica che regola l'attività cellulare detto in parole molto più semplici la natura a quel punto se ritiene che la persona debba capire qual era il conflitto glielo fa capire magari a distanza di un mese succede anche questo si fa EFT per un problema si risolve il problema dal punto di vista organico e comunque a monte si va a risolvere il conflitto la persona non sa il perché sa solo che sta meglio che non ha più nulla che le è passato il problema ok ma non ne capisce la ragione cioè non capisce che cosa è andato in soluzione sul piano emotivo profondo e magari lo capisce dopo un mese diciamo così un mese e mezzo due mesi succede che ha un flash e riesce a collegare i pezzi e a comprendere anche questo se questo è necessario perché se lo ripeto la struttura l'intelligenza che regola questa struttura interna di cui vi sto parlando ritiene che non sia necessario non succede nemmeno questo quindi la persona si ritrova ad aver risolto il problema e basta senza nessun altro tipo di considerazione d'accordo per applicare FT si userà inizialmente un sistema che è stato studiato per organizzare l'attenzione psicologica di tutto questo sistema integrato sul piano psico emotivo neurologico biologico sul problema detto in altre parole per fare FT io non posso pensare ad altro che a quel problema perché se penso ai fatti miei FT non funziona quindi fondamentalmente devo concentrare la mia attenzione sul problema faccio un altro esempio il mal di denti ecco che forse è un po' più comprensibile anche se cioè più comune più che altro ecco quindi cercherò di adesso lo spiego in modo sintetico di porre l'attenzione per attivare tutto questo sistema integrato sul mal di denti cercando di definire il più precisamente possibile ascoltandolo questo mal di denti di definire con un aggettivo che cosa sento quindi una persona con il mal di denti che ha mal di denti può ascoltandosi un attimo in maniera superficiale distratta magari all'inizio dire sì ho mal di denti però se si ascolta meglio magari le verrebbe da definire quel mal di denti con un altro termine come per esempio che ne so una morsa sul dente oppure un peso dentro al dente oppure un trapano nel dente ecco io adesso faccio degli esempi per spiegarmi l'importante è focalizzare l'attenzione sul problema definendolo verbalmente in maniera il più possibile precisa rispetto a quello che la persona sente una volta fatto questo si fa una procedura che si chiama attivazione che si chiama apertura del sistema il termine corretto è proprio apertura facendo un certo tipo di picchiettamento sulla mano e ripetendo per tre volte o multipli di tre ma è sufficiente tre volte una frase specifica che ha il compito di disattivare tutti i possibili processi di autosabotaggio che potrebbero come dire ostacolare l'azione di EFT qui mi fermo un momento poi ci torno ma apro una piccola parentesi che cos'è un meccanismo di autosabotaggio i meccanismi di autosabotaggio in genere sono dei meccanismi che producono quello che in psicologia si chiama vantaggio primario cioè faccio un esempio pratico per spiegarvi non so c'è la la tipica famiglia felice del mulino bianco in cui tutto è bello tutto è tutti stanno bene quindi padre madre poniamo tre figli tutti felici e contenti sempre tutti in salute stanno tutti bene a un certo punto i figli crescono e giustamente cominciano a uscire di casa alcuni si sposano altri vanno all'estero morale in quella casa rimane il marito e la moglie ok sempre del mulino bianco a un certo punto sempre tutti bene i figli stanno bene la moglie sta bene tutti bene tutti felici a un certo punto muore il marito cosa peraltro abbastanza frequente perché di solito è il marito che muore prima della moglie generalmente ecco anche a questo ci sono eccezioni ma magari lo spiegheremo in altra sede comunque morale questa signora si ritrova da sola ok i figli ormai sono andati hanno la loro vita e lei rimane da sola sempre stata perfettamente in salute sempre stata bene a questo punto però si ammala e quindi inizia a stare male questa signora che era sempre stata bene inizia a stare male e inizia evidentemente perché poi lo fa a curarsi e a cercare tutti i modi e i sistemi possibili per stare meglio quindi andrà dal medico andrà dal naturopata andrà dallo sciamano andrà da chiunque possa andare per stare meglio e farà tutto quello che le dicono per stare meglio quindi cosa voglio dire che cercherà effettivamente di stare meglio perché non vuole stare male d'accordo? benissimo nonostante ciò continua a stare male quindi nonostante si sforzi di stare bene nonostante faccia tutto quello che può fare per stare meglio per diciamo fra virgolette guarire dal suo problema continua più o meno a stare male allora che cosa succede in realtà succede che questa signora su un piano razionale vuole stare bene razionalmente sta cercando di guarire fra virgolette ma su un piano profondo c'è un meccanismo di autosabotaggio che punta a un vantaggio primario in pratica questa signora razionalmente fa di tutto si affanna si adopera per stare meglio fa tutte le cure del mondo ma continua a stare male perché? perché nella sua parte profonda ha un vantaggio nello stare male nel continuare a stare male e il vantaggio è abbastanza evidente continuando a stare male può attirare su di sé l'attenzione e il sostegno dei figli che non ci sono più a casa quindi in pratica a quel punto i figli si come dire cercheranno di seguire questa questa madre che appunto sta male e quindi mi telefoneranno hai bisogno di qualcosa faccio questo passo di là un attimo mi fermo insomma questa donna in qualche modo stando male sta bene sta bene perché perché riesce ad avere l'attenzione che non ha più perché è sola ok ma tutto questo non avviene su un piano conscio questa donna non se ne rende conto razionalmente ok ecco questo è un tipico esempio di di vantaggio primario se se c'è una situazione di questo tipo EFT deve prima essere come dire preparato quindi bisogna sgomberare il campo da qualunque tipo di autosabotaggio interno e torno e qui chiudo la parentesi e torno al punto sul quale mi ero fermato quindi la fase di apertura di EFT che vi stavo dicendo quindi si individua il problema si pone l'attenzione sul problema lo si definisce con un aggettivo preciso si fa la procedura di apertura ripetendo per tre volte vi stavo dicendo una frase che è stata studiata appositamente per togliere di mezzo per far saltare completamente se ci fosse qualunque tipo di meccanismo di autosabotaggio la frase specifica in questo caso che viene ripetuta sempre nello stesso modo non importa se una persona la comprende o meno o si stupisce di come è stata costruita va detta in questo modo è la frase è facciamo sempre l'esempio del mal di denti e poniamo che la persona individua questo dolore definendolo come un trapano dentro al dente ok bene allora ha gli elementi che gli servono per cominciare l'apertura di questa procedura di EFT quindi farà questo picchiettamento e ripeterà per tre volte anche se sento questo trapano nel dente mi amo e mi accetto completamente e profondamente punto non è necessario comprendere perché la si dice ma va detta in questo modo e per tre volte in maniera da come dire produrre una sorta di iperattenzione del sistema subconscio sul problema liberando nel contempo qualunque tipo di autosabotaggio che impedirebbe a EFT di agire per cui si fa questa prima fase di apertura ripetendo per tre volte questa frase che viene costruita su questo problema poniamo che uno ha che ne so la gastrite invece di dire mal di denti dirà bruciore di stomaco quindi la frase rimane la stessa diciamo nella parte centrale si sostituirà attrapano nei denti con bruciore di stomaco quindi sarà la frase anche se ho questo bruciore di stomaco mi amo e mi accetto completamente profondamente quindi la frase è sempre la stessa si cambia solo la parte centrale dove viene inserito il problema su cui si sta per agire con l'EFT dopodiché si inizia il giro di EFT stimolando i 14 principali meridiani con dei picchiettamenti specifici che vengono fatti punti specifici anche questo poi lo vedremo nel corso e una volta finita questa stimolazione nel fare la quale si ripete non tutta la frase che vi ho detto prima ma solo il problema su cui si sta agendo quindi poniamo trapano nei denti trapano nei denti trapano nei denti quindi si continua ogni picchiettamento a ripetere il problema alla fine di questo giro di EFT morale come vi dicevo possono succedere due cose o il mal di denti non c'è più quindi questa cosa scompare completamente sparito o c'è ma molto meno è sceso di intensità allora in quel caso si fa un altro giro di EFT con la stessa procedura alla fine del secondo giro l'intensità sarà calata ancora e si continua a lavorare in questo modo finché la si porta a zero ok quindi può scomparire al primo giro da sola subito oppure con due o tre o quattro applicazioni durante alla fine di ognuna delle quali però il sintomo è in continuo continuo calo e questo la persona lo avverte in modo molto chiaro perché vi assicuro che se una persona sta male sente subito la differenza nel momento in cui sta meno male sente che il sintomo sta calando d'accordo? ecco questo in estrema sintesi per quello che ci è concesso fare in questa sede è il funzionamento di EFT vi assicuro però che non è molto più complesso poi da spiegare nel dettaglio non c'è molto di più certo va chiarito ogni passaggio sicuramente ma alla fine tutto si riduce e lo ripeto a un minuto di applicazione non di più il tempo di fare proprio questa manovra d'accordo? bene io vi ho fatto un esempio che riguarda l'aspetto fisico e ci tengo a ribadirlo possiamo trattare in questo modo qualunque tipo di problema fisico dal più banale al più grave attenzione lo ripeto qualunque EFT è abbonda di casistiche perché in America è insegnato addirittura nell'università di psicologia dove si fa psicologia energetica quindi c'è una come dire un retroterra di esperienza e di know-how che è altissimo quindi lo possiamo applicare a qualunque tipo di problema organico scusate continuano questi odiosi banner ecco ma ecco ma ecco l'altra parte lo possiamo usare e questa è una delle sue applicazioni elettive anche su qualunque tipo di problema psicologico quindi uno non ha il mal di denti in questo caso poniamo ma ha un forte stato di ansia si sente poniamo agitato oppure lei è morta una persona cara e quindi vive in uno stato di profonda depressione di prostrazione di sofferenza di tristezza questi non sono fatti fisici questi aspetti riguardano la sfera delle emozioni la parte psicologica che poi in realtà badate bene è interconnessa alla fisiologia perché situazioni di questo tipo come dicevo all'inizio e qui cominciate un pochino a mettere insieme i pezzi producono un effetto poi sulla fisiologia ma comunque noi possiamo agire a prescindere dal fatto che una persona magari sul piano fisico sta bene non ha particolari sintomi o problematiche ma ha uno stato diciamo psicologico emotivo particolarmente denso difficile da gestire ok bene EFT agisce perfettamente in maniera estremamente efficace anche in questi casi quindi abbiamo un altro campo un altro settore di applicazione vastissimo enorme su cui possiamo applicare EFT faccio un esempio non so ecco è l'esempio che poi si fa anche durante il corso per vedere come funziona da questo punto di vista EFT l'azione su una fobia ecco le persone che hanno una fobia per qualche cosa ce ne sono di vari tipi non so pensate la claustrofobia la paura del chiuso la paura della folla ecco sappiate che una persona che soffre veramente di una fobia di questo tipo ha dei gravi problemi perché nel momento in cui entra in contatto con la causa della sua fobia va incontro a una crisi di panico ok quindi non c'è da scherzare con questo perché come dire sono situazioni difficili sul piano emotivo da gestire d'accordo ecco un esempio tipico che si fa anche durante il corso è lavorare su una fobia quindi una persona che ha una fobia per una determinata cosa la si induce con un piccolo processo di autosuggestione a entrare nella nella situazione che gli genera le gli o le genera quella situazione di fobia quindi inizia a sentire tutto quello che tale situazione sul piano emotivo comincia a produrre anche sul piano organico per dire la respirazione aumenta il battito cardiaco aumenta comincia a avere una sudorazione profusa se una persona ha paura ha la fobia dei piccioni come mi è capitato di trovarne una che aveva la fobia dei piccioni e non poteva andare in qualunque città perché appena vedeva un picciono da qualsiasi parte inveniva un attacco di panico se pensa al piccione entra in quella situazione sul piano emotivo la fisiologia inizia a seguire il percorso dell'attacco di panico quindi è una situazione difficile da gestire questi sono casi bellissimi in cui si vede come FT agisce in poco più di un minuto togliendo quello stato di tensione di fobia e riducendo tutti la sintomatologia organica legata a quell'attacco di panico in pochissimo tempo d'accordo quindi lo ribadisco EFT secondo me è uno strumento completo proprio perché può essere applicato con estrema efficacia ecco a qualunque tipo di problema questo l'ho detto all'inizio della mia chiacchierata che sia di natura organica fisica ok che sia di natura psicologica emotiva o conflittuale ecco sempre ecco e ribadisco sempre d'accordo io direi che questa è una descrizione è una descrizione estremamente sintetica ma mi auguro che sia servita a farvi comprendere quanto sia potente questo strumento se qualcuno vuole sul mio sito io poi ho un link dove si può approfondire tutto si può andare anche c'è il link diretto a FT Italia che è appunto l'associazione di Andrea Fredi che ha portato FT in Italia anni fa dove ci sono tutta una serie di approfondimenti e c'è anche il link a un podcast che avevo fatto nel quale spiego un po' più nel dettaglio la storia di FT quindi come è nato come si è sviluppato come è stato studiato per esempio tutto lo studio clinico su FT che è stato fatto in America negli Stati Uniti nei casi di stress post-traumatico quindi era stato fatto per esempio nella guerra del Kosovo è stata una guerra devastante Bosnia ricordato negli anni 90 che ha lasciato degli stasci umani laceranti come tutte le guerre evidentemente ma in quella in particolare ecco c'è stato proprio un gruppo di studio americano di FT che ha trattato la popolazione civile che ha subito traumi da questa guerra facendo proprio tutto uno studio bellissimo clinico fondamentalmente e trattando parte di queste persone con trattamenti tradizionali sul piano psicologico quindi psicoterapia sostegno eccetera e altri invece con FT allora morale per farla molto breve situazione di fortissimo trauma stress post-traumatico indotto da queste situazioni atroci venivano risolte praticamente per un diciamo un 98% completamente con FT ecco praticamente quasi tutte mentre con sistemi tradizionali se ne riusciva a risolvere uno scarso 30% quindi questo per dire quanto sia efficace FT è un esempio che mi è venuto in mente insomma e di cui parlo nel podcast in maniera più approfondita per cui se volesse per chi volesse può andare sul mio sito sul mio blog www.alessandrosieni.it alla voce FT e troverà anche il link poi a questo podcast e a tutta una descrizione più ampia e dettagliata della tecnica di FT e un po' Grazie a tutti